I militari del nucleo Carabinieri Parco di Pisciotta, insieme a quelli del reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni di Vallo della Lucania, hanno sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa un'area di circa mille metri quadri ubicata in prossimità della località marinella della frazione di Palinuro di Centola, in zona apposta sulla sponda destra idrografica del fiume Lambro e corrispondente ad un'ex cava a cielo aperto, la stessa dismessa ed inattiva dagli anni 90. Oggetto della misura cautelare, anche un escavatore Caterpillar rinvenuto sul posto. L'area sottoposta a sequestro è classificata come riserva generale orientata a B1 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni, nonché zona di conservazione integrale del PTP Cilento Costiero e zona Parco archeologico per quanto attiene la destinazione urbanistica. Nello specifico è stata constatata l'attività di gestione illecita di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni e comunicazioni previste dal Decreto Legislativo 152 del 2006. Il loco è stato rinvenuto materiale di provenienza esterna al sito, lo stesso costituito da terreno frammisto a scartierili con contestuale modificazione della fisionomia naturale dello stato dei luoghi, sia dal punto di vista geomorfologico che ambientale. Non solo, tramite l'escavatore il materiale veniva prelevato ed utilizzato in altri siti, il tutto senza alcuna autorizzazione. In merito ai responsabili, gli stessi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per attività di gestione rifiuti non autorizzata, nonché per tutte le ipotesi di reato connesse alle normative paesaggistico-ambientali vigenti, essendo la stessa aggravata da vincoli di pregio e tutela rilevanti. Inoltre, proprio nell'area sottoposta a sequestro, è stata rilevata la presenza di diversi nidi di gruccione comune, specie quest'ultima inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e protetta dalla legge 157 del 1992. Tale specie, infatti, predilige proprio le zone umide, come bassi corsi di fiume e simili, nidificando nel periodo tra fine aprile e maggio per ripartire ad agosto. Al fine di evitare pertanto il protrarsi dell'attività delittuosa in ordine alla gestione illecita di rifiuti e per tutelare la nidificazione di una specie particolarmente protetta, ancor di più in periodo ormai prossimo alla ripartenza migratoria, è stato eseguito il sequestro preventivo di tutta l'area.